Il nome del programma la dice lunga, non solo mare. Noi ci siamo trovati in una situazione che davvero ci riusciva difficile non raccontare. Sono le 4 e mezza del pomeriggio di una domenica particolare per un papà altrettanto particolare che in genere eravamo abituati a conoscere sotto altre vesti. Il gol di Andrea Bertolacci quest'oggi contro la Juventus che abbiamo avuto modo di vivere in diretta con te e con tutta la famiglia è sicuramente un'emozione del tutto particolare. Sì, un'emozione da padre che naturalmente magari per chi mi vede freddo sempre così glaciale è un po' inusuale per me. Ti dico che sono emozionato perché non me lo sarei mai aspettato. Andrea Bertolacci, un ventenne, gioca contro la Juve titolare, fa il suo primo gol in Serie A con una delle big del campionato anche se in questo momento non è un momento particolarmente felice però quando tu batti la Juve con una squadra che è Lecce che è una squadra sì importante ma non così blasonata come la Juve è un momento importante. Che le caratteristiche di Andrea siano sicuramente importanti lo dimostra anche il fatto dell'immediato interessamento della Roma che lo ha ceduto in prestito, ricordiamolo, quindi è momentaneamente a Lecce e che subito si è riportata avanti dopo aver visto una delle poche partite in cui Andrea è sceso in campo dal primo minuto. Sì, quest'anno è sceso dal primo minuto quattro volte, non ha mai sbagliato gli approcci a queste partite contro la Sampdoria è andata vicinissima al gol, col Cagliari purtroppo il Lecce ha fatto una partita non di grandissimo prestigio per una squadra come il Lecce però voglio dire contro la Lazio la sconfitta che ha subito la Lazio tra l'altro il Lecce giocava fuori casa e Andrea è stato uno dei migliori in campo certo contro la Juve è addirittura il migliore in campo in assoluto, uomo Sky, chi se lo aspettava. Ha detto di tutti i giornali poi fra l'altro e proprio una cosa che vale la pena probabilmente sottolineare che è quello che manca poi per fare il salto di qualità a certi livelli è la condizione psicologica, il carattere, l'aggressività e come dicevi tu quattro volte è stato impegnato dal primo minuto e non ha sbagliato un colpo cosa che invece magari a vent'anni a molti capita di perdere un attimino la consapevolezza e di lasciarsi andare dall'emozione, invece Andrea dimostra tutto il contrario viene chiamato in causa, risponde presente e con la partita probabilmente più difficile per la sua squadra va anche a fare il 2-0. Certo, io dico solo una cosa, sono rimaste impresse le parole che ha detto il vice de Tecanio che appunto era squalificato, Rizzo, che ha definito Andrea un ventenne vecchio ventenne vecchio che sta a significare che il suo comportamento non è consono perché l'età che ha, è un ragazzo che ha mostrato una certa maturità e io come pare ti dico che sinceramente ha tanto della mamma per quanto riguarda il suo moto diverso dal mio che è un po' più aggressivo, un po' più da fastidio il suo è invece molto calmo, tranquillo, però ti devo dire la sincera verità non me ne voglia magari la gente che non la pensa come me però ha la cattiveria mia perché non esiste senza cattiveria nello sport intendo dire cattiveria sportiva, non vai avanti ha saputo soffrire nei momenti difficili e ancora ne avrà tanti perché a vent'anni ne arriveranno ancora tanti di momenti difficili Tanti ostacoli da superare sia con le squadre di club sia con la squadra nazionale in cui Andrea ricordiamo è già impegnato, ovviamente siamo parlando di nazionale giovanile Sì, Andrea è in nazionale italiana da quando aveva 16 anni le ha fatte tutte, da 16, 17, 18, ha fatto gli europei lo scorso anno con la under 19 adesso ha un sogno nel cassetto, naturalmente da ventenne andare a finire nella nazionale più importante del settore giovanile che è appunto la under 21, quella di Ciro Ferrara io che dico? Ti dico sinceramente che gli auguro da genitore di rimanere quel ragazzo semplice che è e di saper lottare nei momenti difficili e poi un consiglio, importantissimo la scelta della sua vita personale cioè nello sport senza una compagna che possa essere alla sua altezza una compagna che naturalmente non è partecipe nei momenti di gioia ma che partecipe nei momenti di dispiacere quando non arrivano quelle convocazioni che ti aspetti quando non arrivano quel minutaggio che tu ti aspetti come giocatore e lì è importante che ci hai accanto una grande compagna ti possa garantire quella serenità giusta per affrontare poi un approccio mentale adeguato a certi impegni e alle difficoltà che inevitabilmente in un mestiere come quello del calciatore prima o poi si verificano la serenità sportiva arriva attraverso la serenità personale, quella della vita privata uno sportivo che ha una vita privata serena sicuramente è più facilitato rispetto a altri che magari vivono Sfogliando il libro uscito da poco proprio che ti riguarda abbiamo visto come lo sport nella tua famiglia sia un elemento cardine gioia di papà per quanto ha fatto Andrea certamente ma anche un po' di sana competizione perché adesso abbiamo una competizione d'alto livello con Andrea così Ma ti dico la sincera vita, sana competizione? No, tanta invidia, tanta benevola invidia perché che dire, io ho vinto quest'anno il titolo di campione del mondo e ho fatto una gran fatica per fare uscire questa cosa sui giornali comunica di stampa, pressione io rappresento uno sport sicuramente minore, quello dell'offshore e non ti nascondo che è con dispiacere che ho potuto notare che dopo la partita di mio figlio mi ha chiamato mezzo mondo che dire E da domani probabilmente i giornali con un gol daranno ampio spazio alle gesta di Andrea Sì, sì, questo è sicuramente un aspetto che i giornali di domani riempiranno le pagine con la foto di Andrea perché naturalmente un giovane, tra l'altro lo sport vive di queste realtà e rilanciare un giovane anche nel calcio italiano visto la sofferenza che ha la nostra nazionale maggiore a riproporre è proprio perché noi non abbiamo giovani italiani degni di essere dei futuri Baggio, Totti cioè non c'è un ricambio generazionale e questo sta soffrendo molto perché i giovani non riscuotono la fiducia però che ti dico, io da sportivo sono contentissimo per il risultato da sportivo che compete ancora dico porca miseria ma perché non ho fatto un altro sport invece di offshore però ti dico la sincerità che sono contento di quello che faccio Beh, ecco, per concludere sicuramente dicevamo da domani Andrea avrà un grande risalto per l'impresa compiuta nella vittoria 2-0 contro la Juventus e sicuramente la Roma in primis ma molte squadre inizieranno a corteggiarlo se così si può dire proprio per il discorso che facevi tu la nazionale è in grande crisi e a livello internazionale le squadre di club italiane vincono soltanto con quasi la totalità dei giocatori stranieri in questo senso Andrea diventa anche una risorsa da tutelare il papà quanto potrà entrare nelle decisioni di Andrea e cosa speri per il suo futuro calcistico? Guarda, noi abbiamo un procuratore, Alessandro Lucci che tra l'altro hai visto nel filmato, Andrea gli ha dedicato questo gol io ti dico che è un secondo padre non mi sono mai preoccupato della sua gestione proprio perché so che lui è in mano a persona che gli vuole veramente bene il calcio consuma e ti devo dire che loro hanno un rapporto che è diverso da un giocatore e un procuratore quindi che dirti, io credo che Andrea per usare un proverbio una rondine non fa primavera voglio dirti, è solo un gol mi auguro che ne faccio tantissimi altri basta rimanere con i piedi per terra questo è quello che dico ad Andrea, quello che dico alla nostra famiglia agli amici perché è solo all'inizio quanti ne abbiamo visti che si sono persi lungo il cammino mi auguro che non sia il caso di Andrea Andrea ha l'arduo compito di dimostrare che saprà arrivare fino alla fine fino alla fine significa arrivare a 33-34 anni da protagonista bene, noi ringraziamo moltissimo Fabio Bertolacci il campione del mondo ringraziamo altrettanto il Fabio Bertolacci papà e non possiamo che fare i migliori auguri ad Andrea per il suo futuro calcistico grazie anche a voi grazie a tutti